I cinque comandamenti. Per esempio, una delle mie regole è quella di non dare mai niente per scontato. La mia è che prima di occuparci di ciò che non c'è, occorre valorizzare ciò che c'è. Mai crearsi delle aspettative. Questo è fondamentale. Ti godi molto di più. Per me è che se vuoi allenare la velocità devi occuparmi della lentezza. E poi ce ne sarebbero mille altre. Entriamo in ambito musicale. Per quanto riguarda i Motel Connection, essere sempre molto vivaci. Quindi l'intelligenza collettiva è sicuramente superiore a quella che mi vuole. Una settimana appaventura degli animali. Grazie a tutti.